Il bacino del Mediterraneo, focus delle attività dove conoscenza, ricerca e formazione diventano strumenti di sviluppo. Parte da qui la mission del Centro Internazionale degli Alzi Studi Agronomici Mediterranei e dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, che hanno dato vita al primo forum, le energie del Mediterraneo. Per noi il tema è naturalmente il Mediterraneo, le energie da mettere in moto nel Mediterraneo e in questo ovviamente l'agricoltura, food security, la sicurezza alimentare, l'acqua, l'uso sostenibile di queste risorse e l'imperativo di un mondo che sta cambiando. L'esperienza al servizio dello sviluppo, il confronto tra i mercati e le filiere energetiche per affrontare le due grandi emergenze del Mediterraneo, ossia quella energetica e quella alimentare. Esistono le possibilità, le potenzialità finanziarie, le banche, gli istituti di reddito che possono finanziare lo sviluppo e si tratta di mettere un po' insieme tutte queste risorse che esistono. In tutto questo non poteva mancare il contributo della politica europea. Una piccola vittoria della cultura mediterranea rispetto alla cultura del nord Europa ma che però non toglie nulla a quell'approccio di una PAC più verde, più equa, perché distribueremo gli aiuti in maniera più equilibrata e soprattutto una PAC meno burocratica che quello che chiedono i nostri agricoltori. L'agricoltura diventa così un punto di forza in un momento in cui i paesi soffrono la crisi economica e le risorse energetiche diminuiscono. Un piano industriale mirato potrebbe essere la risposta. La scelta di terra è quella di investire in realtà distrettuali come la Puglia dove la realizzazione di impianti a biomasse è stata la scelta per ottimizzare soprattutto i sottoprodotti quindi integrare il reddito degli agricoltori, fare un'integrazione di una componente agricola che in questa regione come in molte regioni italiane vede la volontà del mondo agricolo di migliorare le performance di reddito ma anche di portare delle tecnologie italiane a contatto con le realtà agricole. Raccogliere le energie per produrne delle nuove al Forum hanno partecipato così i referenti delle principali aziende italiane impegnate negli investimenti energetici ed agroindustriali dell'area mediterranea ma anche enti di ricerca scientifica. Io credo che sia sul fronte delle energie rinnovabili ma sul fronte del lavoro, dell'agricoltura soprattutto del rapporto tra i giovani bisogna investire molta energia nel Mediterraneo per fare quello che Mitterrand definiva con un'espressione seducente una comunità di destini. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!